Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. Ecco, siamo fortunati di poter celebrare anche questa messa in onore di Santa Annibale. All'inizio, forse non ci hai fatto caso, nella preghiera di Colletta ho chiesto a nome di tutti una grande grazia che per l'intercessione di Santa Annibale possiamo crescere nell'amore verso Dio, abbiamo detto verso di te, e verso il prossimo. Questa è una grazia grande, allora la chiediamo di nuovo insieme, adesso che l'abbiamo capita un po'. Fa, oh Signore, che possiamo crescere nell'amore verso di te e verso il prossimo, per intercessione di Santa Annibale. Mi piacerebbe tanto che entrasse nell'attualmente nel tuo cuore questa idea. Sto qui per crescere. Diciamo una volta. Sto qui sulla terra per crescere. Sto qui sulla terra per crescere. Il dono del tempo è per crescere. Il dono del tempo è per crescere. C'è stata una santa che ha capito molto il senso della sofferenza e del tempo, credo che sia Santa Gemma Galgani che faceva Gesù questa preghiera un po' strana in un certo senso. Signore, fammi soffrire e non farmi morire. Signore, fammi soffrire e non farmi morire. Questa la possono fare solo i santi questa preghiera. Perché aveva capito così bene il grande valore del tempo e della sofferenza vissuta con Gesù. Aveva capito che dopo la morte non c'è più questa possibilità. Quando finisce il tempo della vita finisce la crescita e la possibilità di portare animi in paradiso, diciamo, di intercedere in un modo speciale. Allora, mi piacerebbe che rimanessi nel tuo cuore questa idea, devo crescere, posso crescere ogni giorno che apro gli occhi e per un passo avanti nell'amore di Dio e degli altri. E poi, questa crescita si può fare in tanti modi, però ne indichiamo due che sono legati proprio al carisma di Padre Annipari. La prima è questa, spalancare il cuore per abbracciare il mondo intero, alimentare il desiderio, l'intenzione di arrivare a tutti, di soccorrere tutti. Anche se noi siamo tanto piccoli, a volte abbiamo un cuore proprio, però quando entra Gesù in noi, lui ci porta il suo spirito, come nella comunione, oppure adesso che vi parlo. E questo è uno spirito universale, universale, arrivare a tutti, arrivare a tutti. Gesù questo anche ce lo indica con il simbolo della Messe. Guardate la grande Messe, che l'umanità intera, ecco, aspetta la luce del Vangelo. Il desiderio, l'intenzione di arrivare a tutti, quindi non vivere solo per mio figlio, mio marito, mia moglie, mia famiglia, troppo o poco per un cristiano. Noi viviamo per la salvezza del mondo. Mi ricordo Chiara Ludwig che diceva, Signore, verrò a te portandoti il mondo nelle braccia. Ecco, quindi questa prima grazia di Sant'Annibale per la crescita è aprire il cuore a tutti, non rimanere chiusi nel nostro piccolo cerchio, perché quello non è adatto per un cristiano. E poi la seconda aiuto che ci dà Padre Annibale è una specie di segreto spirituale per arrivare a tutti, perché non c'è solo il grande orizzonte, ma anche la strada, come si fa ad arrivare a tutti. E vi ricordo un'esperienza che qualcuno di voi già conosce. Lui aveva cominciato proprio qui, il cosiddetto quartiere a Lignone, che non era come adesso, era un quartiere marginale della città, poverissimo. E aveva cominciato a raccogliere le bambine orfane che non avevano nessuno, aveva fatto già una piccola orfanotrofia, eccetera, eccetera, poi i maschietti in altro modo. E a un certo punto quasi si ferma e scrive questo, c'è una riflessione sua, che cosa sono questi pochi orfani che io riesco a raccogliere in confronto ai milioni che nel mondo ci sono e che nessuno soccorre? Che cosa sono questi pochi poveri che io sfamo ed evangelizzo in confronto ai milioni che ci sono nel mondo e che nessuno aiuta? Poi dice, trovai una via larga, aperta per arrivare a tutti. Nelle parole di Gesù pregate il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. Ecco qui il suo segreto, lo spirito della preghiera per ottenere i buoni operai. Un'altra volta le sue suore spiega che attraverso questa preghiera E' come se lo spirito santo ci faccia diventare padri e madri degli apostoli. Perché è una preghiera che genera in Dio le nuove vocazioni. Allora, crescere il più possibile nell'amore di Dio, avere il cuore aperto fino ai confini della terra E fare nostro partecipare al segreto di Padre Annibale, questa bellissima preghiera misteriosa per ottenere i buoni operai, gli apostoli della Chiesa. Allora diciamo così, Signore Gesù, fa che possa crescere sempre E non mi adagi nei risultati conseguiti Taglia il mio cuore Aprilo fino ai confini della terra E innamorami della preghiera di Santa Annibale Fa che anch'io possa ottenere i apostoli santi Fa che anch'io possa ottenere i apostoli santi Per la mia città Per la mia città E per il mondo intero Per il mondo intero Amin Manda, Signore, apostoli santi Alla Tua Chiesa Alla Tua Chiesa